Stai dimmando? Sì Purtroppo le altre giocate non le ho potute caricare sul canale Perché gli altri piani erano davvero bui con poca luce E nei video si vede poco e niente Ma questo ed unico video ragazzi Ricompensa tutta la mattinata di gioco Come avete visto sono riuscito a prendere in tempo Quella torretta a circa metà del campo Che in particolare era l'ultimo piano Ed era il più piccolo Quindi gli scontri sono molto ravvicinati Intanto la mia squadra viene piano piano decimata Perché i ragazzi dell'altra squadra erano davvero bravi in urbano La giocata è un classico deathmatch a una vita Formati da due team Da sette operatori ciascuno Quei ragazzi avevano anche buttato un fumogeno Cercando appunto di avanzare Ma gli altri ragazzi erano davvero bravi Si posizionavano molto bene Ed erano molto aggressivi Molto bravi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Una cosa bella ragazzi Che l'altra squadra non si aspettava minimamente La mia posizione rialzata Tutti ci aspettavano appunto Sullo stesso piano Invece C'ero io dall'alto Che Piccionavo Ecco Possiamo dire Piccionavo Un'altra squadra non si aspettava minimamente E mi sa che qua L'abbiamo fatti fuori tutti Signori Un'altra squadra non si aspettava minimamente Ebbene si ragazzi Nonostante siamo rimasti in due Ci siamo portati a casa il match Eliminando tutto il team nemico Una giocata pazzesca che meriterebbe una condivisione Su tutte le piattaforme possibili In maniera mostruosa Confido in voi ragazzi Inoltre vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Se volete lasciare un commento Un like Un dislike Siamo più che felici Per qualsiasi info Non esitate a contattarci su facebook Tutto in descrizione Inoltre c'è anche il profilo instagram Fateci un salto E vi lascio anche in descrizione La pagina facebook Della nostra sd Pavia Softair Nel caso volete contattarli Per giocare insieme a noi Da M è tutto E al prossimo video Stay hungry Stay bitter Now, here comes the music